Furbo o astuto? Questi due aggettivi vengono spesso considerati sinonimi, in quanto entrambi indicano chi è abile a escogitare il modo per evitare il pericolo, per risolvere a suo favore una situazione difficile, per raggiungere i propri scopi anche senza grandi sforzi, ma li divide una sottile differenza che ci spiega l'Accademia della Crusca. Il furbo agisce più distinto, l'astuto invece agisce più in modo ragionato. Dunque l'obiettivo è lo stesso, le modalità utilizzate per raggiungerlo sono un po' diverse, lo sapevi?